Cetera è un paese di pescatori e si trova vicino a Salerno, che è il più colorato paese della costa. Bella, fa caldo. All'inizio di Setara c'è una grande torre, che prima veniva abitata dai sarraceni. I pesci di Setara sono tolli, polipi, alici e basta. Il mare è la cosa più bella che c'è qui, perché in estate quando ti butti al mare è come se stessi in paradiso, pieno di pesci. Senti che il mondo ti gira intorno. Senti che il mondo è il mondo. Senti che il mondo è il mondo. Per la colatura di alici bisogna preparare una salsetta con olio extravergine di oliva, aglio e prezzemolo tritato e peperoncino. Aggiungere un cucchiaio di colatura per ogni porzione. La colatura di alici è il sugo delle alici. Non ho piede, non ho piede. Non ho piede, non ho piede. Bene, ora lo facciamo. Ora vi faccio vedere come si fa la colatura. Si prendono degli acciughi, si togliono la testa e si incominciano a mettere sotto sale. Vedi, poi qui si mette questo qua sopra, così, si preme, si mette una pietra sopra e scende. Quando è scesa diventano spiacciate e si incominciano a maturare. Quando sono ben maturate, allora noi possiamo fare l'operazione di fare la colatura. Va bene? Si. Ecco qua. Cuocere la pasta al dente senza l'aggiunta del sale. Mettere la pasta nella salsetta e mescolare bene il tutto. Aggiungere un poco alla volta al tra colatura. Se si vuole un gusto più saporito. Buongiorno genizio, mi chiedete, mi chiedete, mi chiedete con la colatura. Il pezzemolo? Si. Grazie. Piano piano, piano, piano. E' il peperoncino. La pasta. Vieni, vieni. Uno e uno due. Grazie. Sta bene così? Si. Ciao. Ciao. Buon appetito. Grazie. Grazie. Piano piano. Entrate bene piano piano. Vai piano piano. Bravo. Così. Tu lo stessa. Incominci a tagliare l'aglio. Tu il pezzemolo lo metti qua e tu l'aglio lo metti qua. Va bene? Allora. E così, bravo. Quando hai tagliato ogni tanto prendi e lo metti qui. E' una scossa. Perché non si toglie? Perché non si toglie? Perché si non si toglie? Vedi? Ecco qua. Prendete e tagliate piano piano. Allora, quando avete fatto, mettiamo tutto qui dentro. Va bene. Il pezzemolo qua. Va bene? L'aglio, il peperone, l'aglio, il rovescio, il peperone, li mettiamo qua. Somma, sembra pesca. Eh, così. Ora ci mettiamo l'olio. E ora regaliamo la pasta. Moca la pasta. Moca la pasta. E non la bravo. Piano piano. Clicclop, clicclop, clicclop. 8-9 minuti. Clicclop. E la buttiamo dentro. Ora prendiamo la colatura. Non tanto, eh? Se no viene troppo salato. Va bene così. Gira. 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 Spaghetti con la colatura. Buoni. Buoni. Perché non vieni. Come sono? Buoni, ma peccato. Amo fruto.